La patata è un tubero. Ha forma irregolare o tondeggiante, la boccia ruvida e la polpa soda nelle patate a pasta gialla e farinosa nelle patate a pasta bianca. Definito il cibo dei poveri, è un alimento perfetto perché facile da coltivare, conservare e mangiare. Ne esistono migliaia di varietà ed è il 4 gradi alimento più diffuso al mondo. È inoltre una pianta medicinale, contro le nevralge, utile per vari rimedi casalinghi per togliere macchie, grasso, odore di sudore e persino contro la nausea della gravidanza. Dal punto di vista nutrizionale le patate sono conosciute principalmente per l'alto contenuto in carboidrati, presenti principalmente sotto forma di amidi. L'essa con poco sale è in grado di sostituire il pane per chi ha problemi di linea. Attenzione, non consumare le parti verdi perché contengono solanina, sostanza tossica. Informazioni generali Utilizzo in cucina prevalentemente sono destinate all'uso alimentare ed essendo molto versatili si prestano a migliaia di preparazioni diverse. Il loro utilizzo più diffuso è comunque come contorno. Vengono soprattutto servite calde, nel caso dell'insalata di patate e delle patatine fritte, le patate possono essere servite anche fredde. I modi più comuni di utilizzarle sono, purè, cotte intere al forno, bollite o cotte al vapore, tagliate in cilindri, a giulien, foto a destra, o in dischi e poi fritte, a cubetti e cotte al forno, cotte in casseruola e condite con salse dense. Inoltre possono essere usate per fare roast, focacce e gnocchi. Tagliate in pezzi, le patate sono un ingrediente comunemente usato nello spezzatino. Altri utilizzi fecola di patate, una farina usata come addensante, in sapore e in odore, composta dall'amido delle patate ed ottenuta dall'essiccamento delle medesime. È inoltre portentosa per la salute e per rimedi casalinghi. Vedi trucchi e consigli sulla patata. Dalla distillazione delle patate si ricava un prodotto alcolico non di grande qualità. La pianta la patata Solanum tuberosum, è una pianta perenne con tuberi carnosi, derivata dalla trasformazione di fusti o radici che crescono sottoterra e ne costituiscono la parte commestibile. Predilige i climi temperati caldi e i terreni ricchi di humus. Stagionalità tutto l'anno, tranne che per alcune varietà, come le novelle, che è preferibile cosumarle da marzo fino a giugno, loro periodo di raccolta. Reperibilità facile. Varietà esistono migliaia di varietà, il Peru ne vanta ben 3.000 delle 5.000 circa coltivate al mondo.